Ciao a tutti, bentornati nel nostro appuntamento settimanale con le video recensioni. Oggi vi presenteremo l'umidificatore Philips HU480301 e ve lo faremo vedere in azione. Andiamo subito a vedere le caratteristiche di questo prodotto. Questo è un umidificatore a evaporazione, che non crea vapore o nebollizzazione d'acqua, come gli umidificatori a ebollizione o quelli a ultrasuoni, però si avvale di un ampio filtro imbevuto d'acqua attraverso cui l'acqua passa raccogliendo umidità durante il passaggio. Al contrario degli altri tipi di umidificatore, questa tecnologia non crea depositi bagnati o calcarei nelle vicinanze dell'umidificatore. La capacità del serbatoio è di 2 litri. Sono sufficienti per garantire un'autonomia di funzionamento massima di 8 ore, che non è in realtà una lunghissima autonomia per un umidificatore di questa capienza. Il filtro anido d'ape ha una tripla funzione. Filtra l'acqua dal calcare e filtra i batteri e le polveri contenute nell'aria e nell'acqua. Il blocco motore ha al centro un pannello di controllo digitale, attraverso il quale si può selezionare la velocità di emissione dell'umidità, la percentuale di umidità che si desidera raggiungere nell'ambiente e il timer di funzionamento, la durata di funzionamento che si desidera. La ventola all'interno assorbe pochissima energia, sono solo 17 watt al massimo del funzionamento. L'emissione dell'aria avviene attraverso le fessure qui intorno che abbiamo visto e la portata massima è di 250 ml l'ora, che sono sufficienti a umidificare efficacemente una stanza fino a 25 metri quadrati. Il funzionamento è molto semplice. È sufficiente riempire il serbatoio con dell'acqua, potete usare tranquillamente quella del rubinetto, fino alla tacca che indica il livello massimo di riempimento di 2 litri. Una volta inserita l'acqua potete immergere il filtro, semplicemente all'interno del serbatoio, e successivamente appoggiate il blocco motore al di sopra del serbatoio. Per accendere l'umidificatore schiacciamo il tasto Power e l'eligrometro integrato ci dice subito che il livello di umidità è presente nella stanza che stiamo umidificando. Il livello di erogazione di default è quello notturno, quindi la modalità di emissione minima. Possiamo modificarla e ottenere un'emissione più potente premendo il tasto Speed consecutivamente. Ci sono tre livelli di potenza possibili e un'ulteriore pressione ci porta in modalità automatica. In questa modalità possiamo regolare il livello di umidità che vogliamo raggiungere all'interno della stanza. Può essere 50%, 60% oppure 40%. Inoltre è presente un timer che ci permette di impostare quante ore di funzionamento vogliamo dal nostro umidificatore. Può essere un'ora, quattro oppure otto. Altrimenti l'umidificatore continua ad operare fino all'esaurimento della scorta d'acqua. Cose che possiamo far notare sono il livello di rumorosità veramente minimo, in particolare per quanto riguarda la modalità notte che emette soltanto 26 decibel, è veramente impercettibile. L'aria in uscita, a differenza degli altri umidificatori, è asciutta, non lascia l'umidità sulla mano, proprio perché la tecnologia a evaporazione è microfiltrata, praticamente non c'è evaporazione, non c'è nebulizzazione. Ricordiamo poi che il filtro all'interno del serbatoio non è permanente, ha bisogno di venire lavato una volta a settimana immergendolo per un'ora in acqua ed è necessario sostituirlo una volta ogni 3 o 6 mesi a seconda dell'utilizzo che ne fate. Dopo aver esaminato tutte le caratteristiche di questo umidificatore, possiamo dire che si tratta di un prodotto di ultimissima generazione, funzionante con una tecnologia evaporazione a bassissimo consumo che non crea depositi di acqua e calcare che sono comuni con gli umidificatori tradizionali, quelli a ebollizione o a ultrasuoni. Dobbiamo però dire che l'autonomia limitata a sole 8 ore di funzionamento è un po' bassa per un serbatoio dalla capacità di 2 litri e che la sostituzione periodica del filtro all'interno del serbatoio può essere un inconveniente per moltissime persone. Lo possiamo comunque consigliare per chi desidera umidificare una stanza della grandezza di 25 metri quadri al massimo e per chi cerca un umidificatore molto silenzioso da usare di notte. Se la nostra videorecensione vi è piaciuta, cliccate il tasto iscriviti e seguiteci così da vedere le nostre nuove videorecensioni ogni settimana. Se invece vi interessa acquistare questo prodotto specifico, potete cliccare il link all'offerta che trovate nella descrizione del video. Grazie per averci seguiti, ci vediamo alla prossima!